I luoghi frequentati da giovani nella città di Pozzallo sono nel mirino degli spacciatori, in particolare quelli dove si svolge la movida. Si tratta di un fenomeno dilagante che spesso vede coinvolti giovanissimi assuntori. A dimostrarlo gli ultimi arresti operati dai carabinieri e anche dalla polizia del commissariato di Modica. I militari dell'arma ne hanno arrestati tre di età, compresa tra i 20 e i 39 anni, nell'operazione denominata Candelora. L'accusa è dispaccio eccessione di sostanza stupefacente. Sabato scorso i carabinieri, impegnati in un servizio coordinato, hanno visitato i luoghi della movida pozzallese e specificatamente quelli maggiormente frequentati dai più giovani, con un servizio di attenta osservazione. I tre giovani, tutti pozzallesi, sono stati presi mentre cedevano marijuana e cocaina a dei giovani tra cui una minorenne. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire a un ulteriore quantitativo di droga quattro dosi di cocaina. Si tratta di persone recidive, visto che erano stati già arrestati in passato per lo stesso reato. Adesso si trovano ai domiciliari. Attenzione puntata sul comune marinaro anche da parte della Polizia di Stato, che venerdì sera ha arrestato una coppia di 25 anni pozzallesi alla fermata del Pullman. I due sono stati sottoposti a perquisizione personale. In particolare la donna nascondeva due bustine con della cocaina all'interno degli slip. Da qui è scattata anche la perquisizione nelle rispettive abitazioni, dove è stato rinvenuto altro materiale pertinente, quale sostanza da taglio di 5,20 grammi, due flaconi di metadone privi di etichetta e parti di due compresse, sempre utilizzate per tagliare lo stupefacente. Verosimilmente i due si erano recati nel comune Etneo al fine di approvvigionarsi di stupefacente, che poi, adeguatamente tagliato con altre sostanze, sarebbe stato posto in vendita a Pozzallo, procurando importanti profitti. I due sono stati arrestati e anche loro adesso si trovano ai domiciliari. Continua quindi incessante l'attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo al fenomeno tra i giovani del consumo e dello spazio di sostanze stupefacenti.